Il cuore del messaggio extraterrestre, amici cari, è questo. Dal cielo alla terra, messaggio del 23 luglio di quest'anno. Una comunicazione profonda e carica d'amore. Vi abbiamo spiegato anche e desideriamo confermarlo per l'ennesima volta che noi, esseri di luce, entriamo in contatto solo ed esclusivamente con operatori sulla terra che giorno per giorno donano il loro tempo e la loro vita nella lotta contro il sistema criminale del vostro mondo, cioè anticristo. Difendendo la vita di tutti gli esseri viventi della terra, a noi non interessano coloro che egoisticamente cercano nel loro io interiore amore e armonia senza lotta evangelica dell'attivismo sociale contro le guerre e i mali del mondo. Noi scegliamo uomini e donne che hanno offerto la loro vita e i loro giorni agli ultimi, ai senza voce. Non abbiamo al momento altro tipo di contatto con esseri umani che hanno scelto un percorso di vita diverso dai sopracitati. Loro preleveranno solo questo tipo di gente. Gli altri li lasceranno agli effetti delle loro cause negative. Perciò siccome il pianeta è in crisi e stiamo anche rischiando una guerra nucleare globale è necessario per il nostro futuro entrare nell'ottica dell'azione derivante dalla legge di causa ed effetto e dobbiamo capire che siamo responsabili di ciò che accade intorno a noi perché se noi italiani protestiamo quelli non le mandano più le armi. Ma se noi non facciamo nulla questa guerra ci colpirà tutti. Non possiamo occuparci solo dei nostri interessi personali nell'aspetto privato, intimo, familiare e amicale ma dobbiamo impegnarci a livello sociale partecipando attivamente a una causa a favore della vita e del pianeta che è la nostra casa comune. Dobbiamo resistere, opporci al male dilagante e dare il nostro personale contributo concreto al miglioramento. Dobbiamo essere quel cambiamento che vorremmo vedere negli altri. Dobbiamo comprendere che la vita è regolata da queste supreme leggi universali che l'etica è una base imprescindibile per la stabilità personale, sociale e planetaria. Questo comporta oggi la necessità di agire in modo concreto per opporci al processo autodistruttivo in atto. Solo così potremo entrare in contatto con le società delle stelle e convivere con loro.